è l'ora di si fa per ridere amici benvenuti alla quattordicesima puntata di si fa per ridere si quattordicesima puntata della stagione mi raccomando state su perché l'Alfonso Signorini De Noatri è sempre in vostra compagnia è rimasto solo qui in questo straordinario studio di Casa Benini ma naturalmente il programma va avanti perché voi avete bisogno di sorridere, di ridere, di evadere e ce lo dimostrate ogni settimana con il vostro affetto che è davvero costante e sempre più in ascesa questa settimana cari amici vi mostreremo alcuni comici che non ce l'hanno fatta a qualificarsi per le fasi finali perché non ce l'hanno fatta? non perché non siano bravi, sono molto bravi ma naturalmente su 270 iscrizioni pervenute al Festival Cabaret Emergente di Modena soltanto 18 si sono qualificati per le fasi finali e allora naturalmente sono molto bravi anche alcuni che purtroppo abbiamo dovuto rimanere fuori e il primo è un duo toscano loro sono veraci, hanno proprio quella comicità bella toscana che comunque piace davvero tanto sono Cecco e Baracca e aprono questa puntata di Si fa per ridere saluto anche i miei compagni di avventura bene, Cecco e Baracca per voi vai Galeone lascia perdere gli annunci su internet e via, lascia fare e che? ma lo sai che mi hanno raccontato? e che? a una signora, una bella donna fa conto una donna su 45-50 anni e l'aveva messo un annuncio su internet e la cercava il fidanzato e che? solo aveva dei parametri ben precisi dice voglio un fidanzato che non sia violento che non alzi le mani contro la propria donna voglio un fidanzato che sia fedele alla propria compagna che non corra dietro a quelle altre donne e poi insomma lo voglio anche dotato fisicamente esigente, esigente esigente, esigente insomma, fa conto che dopo un quarto di settimana la signora sente suonare il campanello apre la porta e c'è una carrozzina senza le braccia ok dice sì, desidera? no, dice sarei venuto per quell'annuncio che annuncio scusi? o l'ho cerco un fidanzato sì schermo guarda bene no sì, dice io cerco un fidanzato però c'era dei parametri precisi sì sì, dice lo so dicevamo un fidanzato non violento che non alzi le mani sulla compagna e dice vai, io non ho nemmeno le braccia capito però? dice sì, dice la cerca dice un compagno diciamo che sia fedele che non corra dietro alle altre donne io sono carrozzina di farlo vedere sì sì ho capito però insomma cercava anche un compagno dotato fisicamente oh signora ma quel che rete le labbia sonare il campanello io sono un fusto ne ho conquistate tante conosco i kamasutra e ho letto sati basta un'occhiata l'anguida e filtrante le hadon giù trafitte dalle spade sprecheci in deutsch provai con il tedesco ma lei più sorda ancora la un'intese nella foresta pareva fior di pesco venuta da chissà quale paese che miniconda che gambe che anche giare che capelli che viso e pupilla tutti per strada e la facea saltare nei pantaloni mi parea da vena anguilla che la raggiunsi raggiunsi sui ponte vecchio e pian piano gli dissi in un orecchio i glivi dici je t'aime i love you lavavo la spacca e un resisteo più lei mi sorrise la bella bocca splendeva contro il sole con quelle labbra rosse l'hanno uccise e la investì con fiume di parole indole alloggiata la teca in nome verrò a trovarla stasera già allenato le canterò d'amore una canzone io sono un latillo verrà raffinato simpaticone mi chiamano tutti banda ma il mio vero nome l'è piero tito mi vengono a cercare dall'olanda soddisco tutti e sono un travestito e via se ne andò stendendo l'anca mentre io rimucinavo tutto scionco se oggi le bande le son tutte così l'è meglio limitarsi a fa pipì bravi cecco e baracca davvero divertenti vi auguriamo una cosa importante tanti palcoscenici per questa estate e se non sarà proprio subito l'estate sarà subito dopo ma vi auguriamo davvero tanti successi un altro trio che non ce l'ha fatta ma sono davvero particolari e vogliamo mostrarveli sono i figli di troll loro arrivano da taranto e hanno una comicità cantata perché loro ci fanno sentire il loro canto malinconico che è un po' tutt'altro che malinconico ma insomma è molto originale quindi per voi adesso i figli di troll i figli di troll ecco scusate i figli di troll mi viene a metter una cosa i figli di troll perfetto i figli di troll i figli di troll bravissimi figli di troll ma voi del governo vi dovete vergognare vergognare vi sunt con nerd il hun u 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 Hoi! Hai hai hai! Hai! Hai hai hai! Hai! Hai hai hai! Ooooo! Hai hai hai! Hai hai hai! Hai hai hai! Hai hai hai! Hai 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 hai! Hai hai hai! Hai hai hai! Natale, 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 Natale! Che canto malinconico, che canto malinconico, voglio il piccolo e l'etero, voglio il piccolo e l'etero, ricchi o poveri ascoltano, ricchi o poveri ascoltano, sto canto così l'animo. Oh 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 or protagonista con il capo di ardale. Miglione tu grandissima, miglione tu grandissima, col canto malinconico, col canto malinconico, ti buttero quel frenito, tavolo fresco. O-oh-oh-oh 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 Incurante di me un misero Incurante di me un miseroso Ma incurie al cuore che amare assai Ma incurie al cuore che amare assai O-u-oh-oh-oh sono stato in bucio O-u-oh-oh-oh-oh sono stato in bucio Sopranco mi consolerà Sopranco mi consolerà O-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh devo dire che io a casa sto bene amici ecco magari sì la voglia di uscire c'è però a casa non si sta poi così male si possono fare tante cose e soprattutto si può riposare dormire ecco certo che dormendo tanto poi magari uno dormendo troppo non è abituato si sveglia con qualche acciacchetto qualche dolorino e allora cosa fa telefona al nostro professor niente che è sempre pronto e lui esercita sempre ed è pronto a dispensare i suoi consigli preziosi il professor niente siamo nel nostro spazio preferito professore l'incontro col professor niente questo pozzo di saggezza che ogni settimana dispensa consigli suggerimenti a tutti i nostri telespettatori ci scrive sarah sarah dal lerici il golfo dei poeti lo conosce professore meraviglioso luogo sarah ha sempre una sensazione ma non solo una sensazione di fare la pipì e cioè di dover andare a fare la pipì continuamente tutto il giorno è un disturbo perché non può fare più le attività normali e di lavoro di studio ecco cosa consigliamo a sarah professore sarah proviene anche da una come dire località molto e niente bella e quindi a sarah che affetta da questa a come dire sintomatologia che noi come sindrome noi medici noi scienziati è vero andiamo a classificare come sgocciolamento pelvico ecco naturalmente io quel che posso consigliare alla signora o signorina sarah che ci scrive dal golfo dei poeti visto che avete un bel mare visto che ci sono delle ville con delle piscine straordinarie ecco che vada a fare un bel bagno in piscina o al mare e lì con l'acqua molla la sua acqua ecco e si mescola il tutto è giusto nelle ville però magari la villa non appartiene a lei l'unico consiglio è che magari sarà ecco non non lo faccia dalla dal trampolino ecco sia dentro nell'acqua professore grazie davvero per la sua preparazione la sua saggezza grazie e niente una farfallina due farfalline tre farfalline e poi quattro e cinque farfalline come è bello contare farfalline poi sei sette otto nove e dieci chissà quante quante farfalline ci sono in una confessione però io mi sono già stancato di contare farfalline vamo la tanta gai amici di si fa per ridere voglio davvero ringraziarvi per l'affetto che dimostrate per la nostra trasmissione ci arrivano tanti tanti messaggi che ci riempiono il cuore di gioia e ci danno forza per andare avanti la scorsa settimana poi la nostra rubrica si fa senza ha avuto un successo davvero straordinario piero pellè l'uomo dal basso all'alto ha riportato tantissimi commenti anche in streaming e andate a vedere sulla riccardo benini channel ci sono tantissimi commenti entusiastici per il nostro piero pellè questa settimana per la rubrica si fa senza abbiamo pasquale trombetta il quale ecco devo dire i nostri bambini io saluto i bambini che fra poco ritornano a scuola mi raccomando sì e vi mando un po a letto bambini perché pasquale trombetta ha un umorismo un po hot un po osè noi cercheremo naturalmente di tagliuzzare però i bambini sono pregati di tapparsi in questo momento un pochino le orecchie perché oggi appunto si fa senza la rubrica più amata è dedicata a lui aspettatevi di tutto pasquale trombetta una ragazza che piaceva tanto era caterina era figlia di un carabiniere lei è venuta a vivere a casa mia contro il volere del padre ma sai siccome io sono uno coraggioso e onesto sono andato da lui e ho detto caterina è a casa mia il suo cuore è già mio e le vorrei chiedere la mano il padre mi ha arrestato con l'accusa di rapimento e traffico di organi ma poi lo sapete meglio di me ci sono storie dove finiscono in buoni rapporti storie a me che finiscono con grande sofferenza specie quando non si va d'accordo e ci si scontra su qualsiasi cosa a ricordo un periodo stavo con una donna divorziata che a letto c'aveva un sacco di problemi ma non per colpa del suo ex marito per colpa del suo avvocato cioè quando la cercavo di prenderla da a pecorini insomma lei non voleva perché il suo avvocato le ha detto non si faccia cogliere le spalle dagli uomini non poteva avere sesso orale perché il suo avvocato le ha detto non si faccia dappare la bocca dagli uomini e nemmeno il 69 non si faccia mettere i piedi in testa da nessuno io da allora chiedo alle donne di fare la posizione del 70 che non so neanche io qual è però se ci faccio la figura che sono uno che sono molto avanti ma purtroppo in questa vita quello che non manca mai in questa vita così perfetta e quando incontri un amico parente che cerca a consigliarti la soluzione alla vita il mio migliore amico mi dice sempre sarebbe migliore che trovi una donna e metti su famiglia io dico gli rispondo troverò prima io una donna o troverai prima i tuoi congiuntivi oppure l'amico che dice dai arriverà prima o poi cupido a scoccare la freccia io dico sì il mio cupido si è venduto l'arco e le frecce su ebay e ha comprato la playstation ma poi un po ti convincono e cerchi di trovare l'anima genemella con l'estremo tentativo digitale sì lì devi compilare il tuo profilo io c'ho scritto sul mio profilo cercasi donna sfortunata in amore che single e separate non già avute bello ricco simpatico e bugiardo se siete stanche delle brutte sorprese fidatevi io vi deluderò da subito e questo perché nella vita non vuoi rischiare la vita da single è bella solitudine compresa ma se a volte penso tra me e me ma se un giorno mi pentissi di questa mia desiderata libertà e cominciassi a soffrirne tanto da credere aiuto mi scongiuro se tante volte dovesse succedere ciò e mi sentirei così sopraffatto non chiamate l'ambulanza ma piuttosto fatemi un bonifico pasquale trombetta meraviglioso anche tu finirai nella classifica di si fa senza a fine stagione naturalmente vi mostreremo una puntata speciale dedicata a tutti si fa senza a me fanno davvero molto ridere adesso amici una sorpresa che siamo certi mi piacerà tanto perché il nostro amatissimo guido de maria che da 27 anni accompagna il festival cabaret emergente di modena il nostro presidente è umorista autore di caroselli famosi naturalmente co autore e regista di gulp super gulp fumetti in tv che tutti ricorderete naturalmente soprattutto i non giovanissimi scrisse con franco godi una canzoncina una canzoncina cantata da un curioso personaggio che si chiama giumbolo è davvero molto famoso e questa canzoncina ha un compito aveva un compito e ce l'ha anche oggi oggi è più che mai attuale perché voleva naturalmente regalarvi un sorriso una speranza quando sembra che il mondo ci cada addosso arriva giumbolo e naturalmente lo può salvare quindi noi dedichiamo questa canzone a tutti voi regalandovi naturalmente un momento di spensieratezza ma soprattutto una speranza perché se stiamo in casa e se rispettiamo le normative tra poco davvero ce la faremo giumbolando sono giumbolo giù giumbolo e vi insegno a giumbolar e giumbolando in giro tondo si cambia il mondo e tutto cambierà e giumbolando a qual contento ritrova in tutti la felicità se c'è qualcosa che non va del tutto ben non credere che il mondo crolli intorno a te all'improvviso c'è un giumbolo che viene e giumbolando il mondo ti rimette in piede se hai problemi per il domani un fischio e un battito di mani arriva giumbolo e ti insegna a giumbolar e giumbolando trovi la felicità e giumbolando in giro tondo si cambia il mondo tutto cambierà e chi non giumbola non vince a tombola e chi si spegne pure la tv avete capito amici non perdete mai la speranza ricordatevi di giumbolo la prossima settimana guido voglio farti un'altra sorpresa perché davvero sei nel nostro cuore voglio regalarti un'altra chicca resta in ascolto adesso amici ecco no però io sento anche da casa questa musica che mi perseguita e quando arriva questa musica vuol dire che in collegamento in un luogo che ancora non abbiamo capito qual è c'è il nostro notaio c'è anche stavolta ecco vediamo c'è sono qui eccomi qui amico riccardo in compagnia della mia opera mogna e allora loro signori si chiederanno perché il notaio è in compagnia della sua opera mogna ma naturalmente perché in questa settimana pasquale sarebbe duopo e buona norma averlo tra i doni e i presenti da regalare o far trovare nel proprio vetto oggi 9 aprile naturalmente si festeggia san demetrio ecco quindi auguri a tutti i demetri a tutte le demetri a tutti i dementi a tutti i metri e i centimetri che girano per casa perché si sa che in questo ultimo mese i centimetri a casa sono utili ecco e aumentano di giorno in giorno insomma bene ecco sentite il mio chauffeur caversago che sta tenendo in moto è vero i motori e i pistoli è vero della mia automobile vada a fare un giro caversago la porti a fare un giro a scaldarsi vada e non gli ho dato neanche l'autocertificazione bene dicevo che oggi amici miei 9 di aprile pensate che mancano 266 giorni alla fine di questo anno bisesto l'encaralanga è ancora lunga ma insomma stringiamo i denti e andiamo avanti gaudenti e solari auguri di buona pasqua a tutti naturalmente a lei riccardo a lei francesca a lei vincenzo galeone il nostro regista inossidabile il nostro notaio davvero uno dei personaggi più amati della nostra trasmissione bravo 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 un altro personaggio molto amato è il nostro cantante da osteria allora le osterie insomma lo sapete e c'è una situazione particolare lui cosa fa attrezza l'osteria a casa sua con tanto di tavolino bottiglie eccetera eccetera e oggi ci canta un successo meraviglioso proprio adatto alla trasmissione di oggi adatto a questo tempo e cioè quanto tempo ancora l'ha un po' riedattata e però insomma il concetto non cambia le canzoni di casoni vai col vino salve no è che qualche giorno che mi gira in testa questa domanda allora volevo capire se anche voi comunque ma quanto tempo e ancora dovrò restare dovrò restare in quarantena quanto tempo e ancora dovrò restare con mia moglie quanto tempo e ancora dovrò fare il babysitter quanto tempo e ancora prima 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 di tornare in osteria che se mangio ancora e ancora l'esso rischio di morire ma se non lo lo mangio spesso lo mangio spesso rischio di impazzire amore 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 pronto quanto tempo e ancora quanto tempo faremo a gara per buttare il vetro quanto tempo e ancora ma dove sono i testimoni di Geova quando osservano che suonavano così spesso mi facevano morire che se però suonassero adesso mi farebbero gioire amore ci sono i testimoni di Geova è mia madre no aiuto straordinario casoni io davvero sono felicissimo del successo personale che stai riscontrando in si fa per ridere te lo meriti tutto continua con le tue canzoncine e vino bevine poco adesso voglio ringraziare amici la nostra Marilena Marretta che sta facendo le riprese perché qua a caso abbiamo di camera eh importanti eh camera woman eh va bene e voglio ringraziare anche Vincenzo Galeone che tra poco vi mostrerà il medley con tutti i video che sono arrivati da casa anche ammatoriali anche curiosi ma sono davvero molto significativi noi ci vediamo al giovedì alle 22.45 circa sul canale 15 del digitale terrestre ma subito dopo alle 23 iniziamo sul canale 11 per chi ci vuole seguire appunto per la zona di Modena sul canale 11 e mi raccomando seguite anche ti aderci prima perché c'è un programma di Ettore Tazzioli davvero molto 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 bello che ci fa da traino e ringraziamo il nostro direttore ma poi la Riccardo Benini Channel facilissima da trovare su qualsiasi cosa tipo Google Riccardo Benini Channel a lei si va su YouTube e lì si possono vedere gratuitamente tutte le puntate di Si fa per ridere dalla prima all'ultima così vedete anche i nostri comici finalisti e noi amici qualsiasi cosa accada nella vita in quest'altra settimana e mi raccomando amici non perdete mai questo motto state su su mio figlio andrà alla scuola dei Francescani della Madonna addonorata del Pineto santo arcangelo ciao sto Paolo il padre del Pietro me coglioni oh capone nel suo profilo si autodefiniva petite femme e se fosse stata di lingua madre francese entrate nel sito del NUR accedete con credenziali o tramite speed compilate la domanda riferendo alla scuola anche quanti pelli avete sul culo piacere Paolo mi disse il piacere è tutto mio finalmente riuscì a vederla sorridere in effetti i suoi denti non erano proprio perfetti anzi qualcuno gliene mancava e quelli rimasti erano di un colore simile a quello del caffè Elea prendi il piumino per favore va freddo mh mh quel giorno pioveva di rotto avevo un appuntamento per prendere un caffè con Paola il mio viaggio si rivelò come una piccola odissea trattori camioni in fila uno dietro l'altro lavori in corso posti di blocco autovelox mamme rincoglionite che si fermavano al lato della strada per andare a prendere i figli a scuola mamma 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 ah cosa è il ciumino ma sono un'improvvisatrice e fate come me pare via Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS